ecco la c'è la foto siamo in germania alleluia ora che stai facendo video? video si va dai vai continua è stato un po' per ad arte gira gira vieni 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 cambia ah eccolo qua di qua si vede meglio me aspetta lo faccio vicino gli occhi il naso la bocca questo è il capolavoro di francesco e di questa bella bambina la foto dove si fa? con quella cliccando sulla macchina dove ce la fa ho capito vai l'ha fatta credo no ti sei in giro vai 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 e io le sto facendo vedi che si vanno verso la casa si guardano anche la casa dai 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 così no nel senso verso la casa la è casa mia si però è un po' lontano faccio una con te poi non li so fare forse rinpo ce la facciamo da soli come si fa da soli? così hai visto che bella neve? germani non c'è la bambina non c'è la bambina non c'è la bambina non c'è la bambina facciamo una un'altra fai una foto 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 hai ti è arrivato qualcosa perché ti arriva? no foto? paghetti hai arrivato? non lo so che cosa ti è arrivato qualcosa ho sentito no effe sta continuando tu fai foto? questo? non la so non parla in inglese questo qua eh avevo pure i guanti come la fa? no non te lo fai non parla in inglese ma si con il cappello sei bravissima dai sei col cappello e sto morendo di fredda bello che gliel'ha messa la cosa? no la plastica bello ma il cappello a meno che l'avete trovato non lo so tu lei si è messa a ridere ah? agli agli è freddo le mani pure me mi stanno congelando ti faccio una io una io una io vai 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 sto congelando siamo ancora i nostri guarda anche tu guarda anche tu sento freddo vai faridici faridici un'altra spaghetti eccoci qua ultimo fine ciao a tutti